Sono usciti gli articoli, sono tutti informati, sono i bisossi, i bisogni, i bisogni, i bisogni, sono accettati, sono i bisogni a stare qui, non c'è nessun posto, ma lasciato solo ricordati su un po' il disco. Le luci dei mari fuori dall'università, i ventitori di rifassoletti e un'auto sangerà. L'agra si parla di rosa, non c'è nessun posto di rosa, non c'è nessun posto di rosa, non c'è nessun posto di rosa. L'agra si parla di rosa, non c'è nessun posto di rosa, non c'è nessun posto di rosa, non c'è nessun posto di rosa. L'agra si parla di rosa, non c'è nessun posto di rosa, non c'è nessun posto di rosa. L'agra si parla di rosa, non c'è nessun posto di rosa. L'agra si parla di rosa. L'agra si parla di rosa, non c'è nessun posto di rosa. Sì Grazie a tutti.